e salve ragazzi e bentornati in questo nuovo video di guido tramontano oggi faremo insieme una lista dei migliori giochi per android nello specifico ne vedremo 5 i cui link saranno tutti qui in descrizione ovviamente oltre link dei giochi troverete anche i link al mio account instagram telegram e facebook qualora vi voglio di unire non solo al canale dunque mi raccomando iscrivetevi e quindi anche agli altri miei account vi chiedo di iscrivervi umilmente perché stiamo cercando io e la mia community quindi che aspettate ad entrarci stiamo aspettando o meglio cercando di arrivare a 20.000 iscritti per il primo di gennaio bene ragazzi partiamo subito dunque con la lista il primo gioco di cui voglio parlare è un gioco molto molto particolare che prende il nome di injustice 2 injustice 2 è un gioco che ci permette di creare una vera e propria squadriglia di mostri per l'appunto by marvel by tutti quelli che sono i film e i cartoni che seguiamo da piccolini e tutto oggi devo dire la verità e migliorando e potenziando questi personaggi sfideremo personaggi di altri mondi di altri mondi o comunque anche personaggi a livello mondiale quindi online quindi sfidando utenti e utenti ovviamente la particolarità di questo gioco è la fluidità la bellezza e la possibilità di effettuare mose speciali che entrano davvero nell'anima dell'utente che sta giocando dunque non dico altro andiamo a vedere un esempio ma soprattutto dovete tenere presente però che questo a differenza di un gioco che vedremo più avanti è un po più statico cioè potrete lottare ma la campagna è sempre lotta contro lotta nulla di più andiamo a vedere wonder woman I will crush you! Il secondo gioco di cui voglio parlare invece è Bricknick. Link sempre qui in descrizione ed è un gioco molto bello. Molto bello perché? Perché riusciamo a non solo sfidare utenti da tutto il mondo, ma sfidare anche noi stessi. Ebbene sì, perché ogni qualvolta si perde un livello all'interno di questo gioco dovremo cercare di ripetere quel livello migliorando però le nostre tempistiche. Ma perché si parla di tempi? Si parla di tempi perché ragazzi questo è un gioco in cui guiderete un'auto volante e dovrete non solo raccogliere monete mentre guidate tra migliaia e migliaia di rocce e difficoltà che migliorano o quantomeno rendono più difficile la sfida livello per livello, migliorando anche i labirinti eccetera, quindi migliorando l'automobile e raccogliendo le monete. Ma riuscirete anche a effettuare dei trick, cioè delle mosse speciali davvero molto belle e aggredevoli alla vista che vi impersonificano praticamente nel pilota che sta portando quella navicella spaziale. Andiamo a vedere anche qui un esempio. Grazie a tutti. 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 Oh Il quarto gioco è Marvel Battaglia degli Eroi Marvel Battaglia degli Eroi si differenzia dal primo non per i personaggi ma per il modo in cui si gioca Infatti qui entreremo un po' in quelle che sono delle community mondiali formando una specie di clan clan quindi che spideranno altri clan migliorando i nostri personaggi facendo delle guerre universali per prendere il potere della galassia non sarò qui a parlarvene perché basta che vi li vado a mostrare adesso nel trailer l'ultimo gioco di cui vi voglio parlare è o il mio preferito modern combat 5 io in questo gioco anzi per questo gioco non dirò nulla vi lascerò vedere il trailer e nulla no comment scrivetemi qui nei commenti quello che ne pensate perché io non posso più farne a meno di giocare altro che playstation 4 e xbox one davvero complimenti a gameloft per quello che ha creato quindi il video come sempre finisce qui a voi il trailer e a mio un po' di riposo mi raccomando ragazzi ci vediamo come sempre nel prossimo video lasciate like e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto ciao che c'è qui Ah! 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 Run! Hide! Ah! 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 This way! Ah! 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 Ha! Ah! 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 Grazie a tutti.